Tanta sfortuna nega al miseria e nobiltà la possibilità di avvicinarsi alla vetta. Successo per 5-1 quello dell'Omnicas che fa smuovare forse definitivamente l'obiettivo playoff per la squadra di padron Verdicchio. I padroni di casa partono un po' timidi ed i primi assalti sono degli ospiti. Nel quintetto del Maddaloni c'è l'angella dal primo minuto chiamato a sostituire lo squalificato Fusco. L'assenza del numero 11 Maddaloni si si fa sentire e con Verdicchio che fatica ad entrare nel match arriva alla rete di ciotola per l'1-0 Omnicas. Sulla palla persa di Rivetti vole in contropiede Catapano abile a superare Di Vico col mancino siglando il raddoppio degli ospiti. I locali si scuotono e come spesso accade è merito del colpo del campione. Il destro di D'Angelo permette ai suoi di accorciare le distanze. Prodezza vana però perché in fase difensiva costano caro le solite disattenzioni. Visconti sfugge via dopo un'altra palla persa ed indovina il tiro della giornata con una conclusione sotto l'incrocio della porta difesa da Di Vico. Neanche il tempo di rifiatare il Maddaloni subisce il 4-1. Arfeo si dimentica Brunelli ed il capitano dei Napoletani. Trafigge Di Vico con il destro volante. La reazione arriva vehemente con Cataldo che colpisce il primo di tanti legni. In contropiede Torelli si aggiunge alla lista dei cannonieri vanificando il doppio salvataggio di Langella sulla linea. E 5-1. Verdicchio tenta di accorciare le distanze con la girata mancina. Poi a colpire il palo e abate. D'Angelo è l'unico a crederci ancora. Ci prova più riprese ma l'arbitro gli annulla il gol per battuta troppo freddolosa della punizione. Quando Torelli respinge sulla linea la punizione sempre di D'Angelo la partita sembra ampiamente chiusa. Arfeo colpisce l'incrocio fallendo da due passi. Verdicchio inventa un destro ma ha la stessa sorte. Altro salvataggio al limite sempre ai danni di Massimo D'Angelo stavolta ad opera di Brunelli. Il sipario cala quando l'arbitro punisce la reazione di Verdicchio sul portiere mostrandogli il cartellino rosso. Ora il Maddaloni dovrà vincere in casa del Città delle Acque per rilanciare i sogni playoff. Grazie a tutti.